Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo quanti pasti dobbiamo fare nel corso della giornata. Pasti, non pasti, pasti. Allora, ci sono sostanzialmente due scuole di pensiero diverse. Chi protende e sostiene di utilizzare tantissimi pasti, quindi dobbiamo mantenere la protosintesi derivata, dobbiamo sempre inutili del corpo, quindi 6, 7, 8 pasti durante la giornata, che devono essere fatti tutti don't miss meal, non saltare neanche un pasto, eccetera, eccetera. E chi invece suggerisce di utilizzare pochi pasti, quindi tutti i sostenitori del digigione intermittente, per benefici legati alla sensibilità insulinica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche un solo pasto nel corso della giornata. Questi sono i due estremi opposti, come vedremo la verità sta più o meno sempre nel mezzo, però cerchiamo di analizzare quelli che sono i pro e i contro di entrambe le strategie, iniziando con l'utilizzo di tanti pasti nel corso della giornata. Tra parentesi, questo video l'ho già fatto, me lo ricordo ben chiaro, non so quanto tempo fa, però ci tenevo a rifarlo perché ho anche cambiato alcuni punti di vista su questo argomento, miei personali, quindi ci tenevo a condividerli con voi, perché sto lavorando io, sottoscritto su me stesso in maniera diversa dall'anno scorso e mi sto trovando molto bene, quindi ci tengo a rifare il video. Come sempre ci si evolve ragazzi, niente scritto sul pietra e sono felice che questo canale YouTube abbia e comunque possa testimoniare l'evoluzione di pensiero data dall'accumulo mio personale di esperienza nel corso degli anni. Comunque, detto questo, partiamo. Fare tanti pasti, quali sono i pro e i contro? Allora, sicuramente il contro principale per quanto riguarda me del fare tanti pasti è di natura organizzativa. Io sostanzialmente faccio una vita da atleta, da preparatore, da atleta, però non ho un lavoro, non ho un impiego, quindi sono molto tranquillo nel poter fare tanti pasti, sostanzialmente mi cambia poco, però comunque sento un peso a livello organizzativo del ogni 2-3 ore mettermi là e ripreparare un altro pasto, rimangiarlo, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente questa è una componente da non sottovalutare. Se avete un lavoro, se magari state in giro spesso durante la giornata, insomma, dover fermarsi per fare tot pasti durante la giornata e farne di più, logicamente è un contro organizzativo. Indipendentemente dai casi può essere più o meno accentuato, però sicuramente è uno svantaggio. Quindi questo è un contro che sicuramente io personalmente ritrovo. L'altro contro, sempre, ho iniziato con i contro, non so perché, comunque mi sono venuti in mente questi. L'altro contro è di natura digestiva, ossia fare tanti pasti tende a poter portare a problematiche di digestione, soprattutto se abbiamo una lenta motilità gastrica, quindi sostanzialmente problematiche come reflusso, cattiva digestione, pesantezza, eccetera, e in parallelo anche di letargia. Perché abbiamo queste continue fluttazioni glicemiche, inevitabilmente la glicemia si alza e si abbassa, quindi inevitabilmente nel momento in cui c'è un picco insulinico, il nostro corpo va in modalità recovery, il sistema nervoso autonomo passa e shifta, un sistema parasimpatico di accumulo, un sistema tendenzialmente anabolico, quindi siamo un po' più letargici. E questo è il motivo per cui molte persone che lavorano tutto il giorno, che lavorano dalla mattina alla sera, preferiscono fare colazione, digiunare, perché stanno magari in lavoro, stanno in cantiere, tutto il resto, e poi mangiare direttamente a sera quando tornano a casa. E si sentono semplicemente molto più lucidi, molto più attivi, e questo è sicuramente un punto importante, ed è giustificato proprio da questo discorso che non abbiamo spike insulinici nel corso della giornata. Di nuovo, lo spike insulinico porta allo shift del sistema nervoso autonomo dall'ortosimpatico al parasimpatico, e questo ci porta a una modalità recovery, quindi siamo e ci sentiamo più letargici. Ora, vediamo quelli che sono i pro. Sicuramente un pro importante è quello del ok, avrò questi spike insulinici, però rispetto a una giornata di digiuno o un digiuno intermittente, la glicemia viene mantenuta stabile. Questo soprattutto se faccio pasti in maniera intelligente, ossia utilizzo dei pasti che sono bilanciati, non abbondo di carboidrati in determinati pasti, se non nella peri-workout nutrition, quindi ho una lenta emissione di glucosio interrente ematico, e anche in questo caso vado a ridurre fortemente questa sensazione di letargia che normalmente viene avvertita nel corso della giornata. Quindi se faccio un pasto super ricco di carboidrati, di proteine, con un forte spike insulinico, è logico che dopo mi sento letargico e mi viene la biocco post-rendiale, però se invece faccio dei pasti bilanciati con un quantitativo di carboidrati minimo rispetto a quello che è il mio peso, al mio bisogno nutrizionale, magari carico un po' di più nel pre, nell'intera e post-workout, allora è sicuramente un modo di lavorare molto più razionale, non avrò queste problematiche. E l'altro vantaggio è di natura di digeribilità, di digestione, ossia, di nuovo, se i pasti sono fatti in maniera intelligente, fare tanti pasti mi permette di avere una maggiore digeribilità, quindi riesco a digerire meglio e riesco a spingere di più anche da un punto di vista calorico in fasi di off-season, in fasi di bulk. E questo mi porterà anche a sentirmi generalmente meno appesantito. Ora, passiamo invece al discorso di digiuno intermittente. Qua, forme di digiuno intermittente realmente hanno il grande vantaggio di natura organizzativa, quindi esattamente opposto al contro del fare tanti pasti, e il grande vantaggio anche in questo caso è di sentirsi meno letargici, cioè di essere più attivi, perché in periodi di fasting, di digiuno, tutto il nostro sistema ormonale e anche il nostro sistema nervoso è shiftato, una modalità fight or fly, quindi sostanzialmente in orto simpatico, e siamo più attivi, più energici. E questo è il motivo per cui, quando le persone digiunano, quando utilizzano anche etogenica, quando stanno a bassi i carboidrati, si sentono anche più energici. Ma è un discorso non tanto di substrati energetici, di energie disponibili che abbiamo, quanto piuttosto dove viene indirizzato il nostro sistema nervoso. Perché? Perché da un punto di vista storico, l'homo sapiens, nel momento in cui digiunava, era il momento in cui stava cacciando, quindi aveva bisogno del massimo di energie, perché doveva procurarsi da mangiare. Quindi è un sistema che da un punto di vista rivoluzionistico è assolutamente perfetto, e ragazzi siamo veramente una macchina straordinaria da questo punto di vista. Quindi sicuramente questo è un bel vantaggio, abbiamo un vantaggio organizzativo, lo svantaggio principale è di natura innanzitutto glicemica, perché comunque avremo un abbassamento della glicemia, avremo un forte spike nel momento in cui mangiamo, soprattutto se stiamo a calorie alte, e di natura digestiva, perché se facciamo meno pasti, logicamente saranno pasti più carichi, quindi di nuovo un forte spike, e il sistema digestivo viene messo a dura prova. Ora cerchiamo di trarre delle conclusioni, e vi riporto quella che è la mia esperienza. Io sono sempre stato una persona da pochi pasti, cioè tre pasti nel corso della giornata, colazione, pranzo e cena. Poi in mezzo c'era l'intra workout, che poteva essere prima della colazione, quindi mi sveglio, intra workout, colazione, poi pranzo e cena. Oppure colazione, intra workout, pranzo e cena. Insomma, questi erano i tre pasti comunque che facevo. E mi sono sempre trovato bene, perché personalmente ho una motilità gastrica tendenzialmente bassa, riesco a mangiare tanto nel singolo pasto, non mi dà fastidio, quindi da un punto di vista digestivo, e da un punto di vista organizzativo, organizzativo mi trovavo meglio. Ora, da un anno a questa parte, in realtà, quello che mi son ritrovato, è di dover spingere le calorie molto più in là, rispetto a come stavo precedentemente, quindi i miei bulk erano molto più aggressivi, e ho necessità di più calorie, attualmente sto sulle 5.000 calorie, 4.500-5.000 calorie, orientativamente non so di preciso, però sicuramente sto a calorie molto più elevate, rispetto agli anni precedenti. E in questo caso, mi son trovato costretto a avere più pasti, quindi in questo momento sono 6 più l'intra workout 7. Perché questo? Perché i singoli pasti non possono essere troppo carichi a livello glucidico, perché non riuscirei a digerire abbastanza velocemente, cioè fare tre pasti da magari tre etti di riso ciascuno, o comunque tre etti di carboidrati lordi ciascuno, sarebbe molto impegnativo da un punto di vista drastico, quindi andare a dividere in questo caso, mi permette di avere un bel vantaggio, inserisco delle passeggiate in mezzo che migliorano la digestione, quindi ho la possibilità di gestire tutto quanto in maniera molto più intelligente e molto più soft per quello che è il mio sistema gastrointestinale. E questa è la motivazione di base per cui in questo momento mi sto trovando bene a dividere in più pasti, quindi attualmente di nuovo sto su 6 pasti più l'intra workout, che è un pasto effettivo, perché ho 70 grammi di ciclo destrine e 30 grammi di Alphatec, quindi è un pasto a tutti gli effetti. Però, per trarre delle conclusioni, io non sono un grande sostenitore del digiuno intermittente per il bodybuilder, perché l'idea di base dei sostenitori è che c'è un vantaggio di sensibilità insulinica, ma il vantaggio della sensibilità insulinica non è tanto sul digiuno che facciamo in acuto, in un arco di tempo, quanto piuttosto sull'input glucidico e sul comportamento del lungo periodo, per cui se mangio 3000 calorie in un solo pasto o nel corso della mia giornata in tutti i pasti, non cambia assolutamente niente da un punto di vista di sensibilità insulinica, sempre ammettendo che questi pasti li faccio in maniera equilibrata senza avere degli spacchi insulinici troppo forti. Quindi, da questo punto di vista non c'è cambiamento, il vero beneficio del digiuno sulla sensibilità insulinica è nel momento in cui facciamo digiuno per periodi molto più lunghi. Per cui non ne vedo il motivo. E soprattutto inizia a diventare pesante nel momento in cui abbiamo tante calorie, perché mangiare 3... Immaginate io in questo momento dovrei mangiare 5000 calorie in un pasto, è veramente impegnativo, ma non che io non ci riesca, perché per fortuna sono di buona forchetta e ho mia moglie che cucina in maniera divina, però il mio sistema gastrointestinale verrebbe messo a dura prova e realmente non è quello che mi conviene, perché passo da due estremi nel momento in cui non mangio a momenti in cui il sistema gastrointestinale viene messo veramente a dura prova. Quindi, qual è il punto in questo? Cioè, io devo mettere sempre in primo luogo la mia capacità di gestione, la mia capacità di assimilazione e stressare il meno possibile il corpo, perché, parliamoci chiaro, mangiare 5000 calorie al giorno, come le mangi le mangi, è un qualcosa di stressante. Per cui questo è il punto. Per queste ragioni io il digiuno intermittente non lo amo, ma con questo non sto dicendo che dovete fare tanti pasti. Il numero dei pasti, in realtà, io personalmente quello che consiglio di farlo tra i 3 e i 6 pasti, 7, 8, insomma, quelli che credete, il numero deve variare in base a come digerite, quanto digerite, in base anche alle categorie che avete, e come vi trovate da un punto di vista organizzativo. Per cui, se digerite bene i 6 pasti, fate 6 pasti, se vi trovate bene a organizzarvi con 3 pasti e non di più, allora fate soltanto 3 pasti, però cercate di mantenere questo minimo, perché di nuovo, essendo Builder, abbiamo una situazione diversa rispetto al sedentario, in cui il digiuno intermittente potrebbe essere un'ottima soluzione, però noi abbiamo una continua richiesta energetica, quindi la richiesta di mantenere i livelli glicemici standard, cercando di tenerli quanto più stabili possibili. Abbiamo la richiesta energetica di per sé di tante calorie, e dobbiamo, e questo è il nostro scopo principale, tenere il sistema gastrointestinale il più tranquillo possibile, e non stressarlo. Ok, quindi è giusto cercare di dargli dei piccoli input, che di nuovo possono essere 3, 6, come state meglio, come state più organizzati, dei piccoli input durante la giornata, in modo che non si stressi troppo, e che riusciamo a gestire tutto nel migliore dei modi. Ragazzi, questo è tutto per questo video, scrivete qua sotto voi quanti pasti fate, come siete abituati a lavorare, e dei vostri feedback, in modo che, insomma, riusciamo a condividere le esperienze. Di nuovo, io mi sono trovato anche spesso a fare soltanto due pasti, la mattina dopo l'allenamento, e poi direttamente la sera, cenando presto per esempio quando siamo in viaggio, in questo modo non avevamo da doverci fermare a mangiare nel corso da giornata, potevamo visitare, andare a vedere i posti, magari provare qualche cosa in qualche chioscarello, in qualche bancarella, qualcosa di tipico locale, e questa è una cosa che abbiamo fatto molto spesso, però adesso, sinceramente, con la mole calorica che vado a gestire, tendo ad avere difficoltà a ridurre tutto quanto in tre pasti, per cui, anche questo è un discorso che prima sottovalutavo, e che credo che sia molto importante da fare, per cui, riportate qua sotto le vostre esperienze, io con questo vi ringrazio, perché io con questo vi ringrazio Sceno, comunque mi invito a scrivere qua sotto tutto quanto, sarò ben lieto di rispondere a ogni commento, ecco, non mi veniva, e con questo vi rimando al prossimo video. e con questo vi ringrazio,